È un torneo che viene organizzato per un'opera benefica e spero che tutte le persone vengano sensibilizzate e venga associato allo sport come contributo alla ricerca. Basterebbe poco per sensibilizzare tutti quanti ed è importante secondo me associare lo sport, soprattutto il calcio, che è amato da tutti, amato dai bambini e anche dagli adulti e viene visto in tutte le parti, è giusto che lo sport venga associato a queste attività benefiche perché con la ricerca possiamo aiutare tantissime persone, dai bambini a tutti agli anziani. Ci consentirà manifestazione intitolata suo marito, suo figlio in campo, è un bel momento, anche se per lei immagino molto forte emotivamente. Vorrei che oggi mio marito vedesse con i miei occhi, mi auguro questo.